Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nella grande chiesa di San Pio da Pietrelcina, ecco in un punto particolare che anche le nostre telecamere, le telecamere di Padre Pio TV ogni giorno con la celebrazione eucaristica non danno questa ottica, ecco quella del celebrante quando presiede l'eucaristia, ecco in questo punto, il punto dell'altare che riesce a guardare tutti i fedeli che sono presenti in chiesa sia da un lato che dall'altro, ecco il punto, si può dire il punto più alto di questa grande chiesa. Oggi qui vogliamo leggervi uno stralcio di una lettera che Padre Pio scrisse al suo ministro provinciale, Padre Benedetto. Siamo nel 1918, 4 luglio, questo vuol dire che siamo quasi ad un mese dalla trasverberazione di Padre Pio avvenuta nella cella numero 5. Ecco perché vogliamo leggervi questo stralcio di questa lettera? Perché lui, Padre Pio, qui ci racconta tutta la sua desolazione. Che cosa era accaduto? Devo dirvi che da questa durissima, oscurissima prigione in cui sono stato confinato a vivere non è più alla mia portata poter riconoscere con chiarezza quegli spazi di luce fugace che soliono succedermi nell'anima che pur vedendo dall'alto l'anima suole ammetterli sempre con trepidazione. Quindi direi, scrive Padre Pio, quasi con una certa diffidenza. Quale ne sia la cagione di questo non saprei dirla. Dovendo essere voi tra giorni in mezzo a noi mi risparmio di farvi pervenire a mezzo dello scritto quello che sto vivendo nel mio animo. Solo vi dico, scrive Padre Pio, che la prova va sempre più crescendo senza nessuna sosta. Il dolore dell'anima che si va disfacendo è amarissimo. Questo grido, grido dell'anima che si va disperdendo nell'incognito solo allora pare che si posa quando ha la riflessione delle assicurazioni fatte in me dall'autorità. Ma lo spirito è sempre sulla sua orribile sospensione, incapace di potersi posare ed è lì aspettando con una affannosa attesa giorno per giorno, ora per ora, istante per istante, una mano pietosa che stendesi a sostenerlo e liberarlo da morte prima che vi cada nell'abisso, non già infernale, perché qui già ci siamo, ma in quello abisso infernale di colpe, aperto sotto il di cui sguardo, come una spaventosa voragine pronto ad ingoiarlo e senza alcuna speranza di salvezza. Oh mio bene, che dico io mai, ma tale purtroppo è la mia positura e sapendoti buono non dovrei che sperare, che sperarti fiducioso quando più vi fosse da disperare, ma ho pena delle pene. La tortura che supera ogni intendimento è questa, vedersi ridotto, a stretto in disperazione, in ogni speranza, e pur speranza non perdere, ahimè mio Dio, che è questo benduro più di tutte le morti insieme.